Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io sto registrando adesso, però dato che sono indaffarata non so quando vedrete questo video, perché semplicemente non so quando riuscirò io a pubblicarlo. Comunque, entro oggi lo pubblicherò. È appena terminata la partita tra Inter e Atalanta ed è terminata con un pareggio. Sicuramente il punto che stasera abbiamo guadagnato è molto importante dal punto di vista della classifica proprio, perché siamo ormai quasi agli sgoccioli, quindi non bisogna buttare niente. Certo, certo, io speravo in una vittoria, però sappiamo benissimo che l'Atalanta comunque è una squadra che mette in difficoltà. Oggi l'ho detta bene la squadra, ragazzi, non come l'altra volta. L'altra volta abbiamo giocato con il Genoa, io ho detto Cagliari. Che gaff assurda, però capita, capita a tutti. Comunque, a parte questo, ci stava la vittoria, ecco, però l'Atalanta non è una squadra da sottovalutare, è una squadra che gioca bene e che comunque ti mette in difficoltà. Devo dire che la partita proprio in generale, se vogliamo vederla proprio in generale, è stata una partita equilibrata. Primo tempo meglio l'Inter, secondo tempo meglio l'Atalanta. L'Inter non ha affatto male. Ha fatto una partita che, insomma, a me è piaciuta. Oggi Perisic, per esempio, non mi è piaciuto. Ha fatto parecchia confusione, ha sbagliato molte cose. Abbiamo invece visto stasera Unicardi che si è, in un certo senso, messo a disposizione degli altri perché ha giocato per il gruppo, ha aiutato il gruppo e, insomma, non ha cercato la giocata individuale, anche se nel primo tempo ha avuto comunque un'occasione proprio Icardi. Insomma, devo dire che l'Inter, tutto sommato, a me è piaciuta. Abbiamo fatto una bella partita, tra l'altro Icardi è stato anche fischiato, è stato fischiato anche stasera. Io non so se effettivamente una cosa del genere può portare cose buone alla squadra perché ormai quello che è successo è successo. Cioè, lui adesso è chiamato a fare il suo dovere, quindi se fa il suo dovere, stasera l'ha fatto perché, per quanto mi riguarda, ha giocato bene. Proprio perché comunque si è messo a servizio degli altri, cioè perché non lo capisco. Sì, c'è scaduto, è scaduto ormai a tutti, però questi fischi... Molto spesso io i tifosi dell'Inter, lo dico io da interista, non li capisco, anche oggi, Perisic ha fatto male, non ha giocato una bella partita. Tra l'altro anche Brozovic si è stirato male, male perché tra un pochino andremo a giocare con la Juve, con la Roma, per cui queste cose non ci vogliono proprio. Però anche un Perisic, che oggi è stato fischiato, non ha fatto una bella partita, ma i tifosi dell'Inter fischirebbero anche un ragazzino di 19 anni che per la prima volta scende in campo e non ci azzecca nemmeno un pallone. Ed è una cosa, da una parte, ok, poca tolleranza, no, nei confronti della squadra perché anche il tifoso ha ragione. Questi devono giocare e devono dimostrarci tutto, praticamente, perché non è che possiamo stare ogni anno a soffrire. Però dall'altra parte, io non lo so, non so a cosa serve tutto questo odio, ecco, non so a cosa serve manifestare tutto questo odio, però tutto sommato oggi l'Inter mi è piaciuta, anche in difesa, non abbiamo subito gol neanche oggi, per cui un Inter che a me tutto sommato è piaciuta, tranne Perisic, alcuni errori sì li abbiamo fatti, però dal punto di vista difensivo, anche stasera, per quanto mi riguarda, sono stati davvero, davvero bravi, bravi. Ed è importante comunque, no, non aver subito un gol, nemmeno un gol. E io direi che il risultato è, tra virgolette, soddisfacente, poteva finire con una sconfitta, poteva finire anche con una vittoria, però comunque ci portiamo questo punto a casa molto importante e guardiamo avanti. Insomma, io vi chiedo di scrivermi sotto questo video, nei commenti, tutto quello che pensate della partita, il vostro migliore, il vostro peggiore, chi vi è piaciuto, chi non vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima, vi dico amala sempre e ci vediamo al prossimo video.